Allora oggi faccio un video su un prodotto che ho comprato un po' per sbaglio però poi si è rivelato un bel prodottino Durante il covid usavamo tutti la mughina, il disinfettante e che più ne menta l'alcol, quelli fatti in casa, quelli acquistati Io adesso ho trovato queste cialde qui, vedete? Queste qui sono delle piccole cialde che se vedete all'interno hanno un liquido Vedete? All'interno hanno un liquido e è comodo da portare appresso perché queste qua vedete? Quante ne volete? In borsa, dentro uno zaino, in macchina, appoggiate in macchina Non c'è il rischio come le salviettine, ad esempio quelle per disinfettare le mani o per pulire le mani, che tenendole in macchina col sole rischi che si disidratano Quindi poi quando le vai a prendere sono completamente asciutte Questi qui essendo chiusi qui dentro, vedete il liquido? Dentro questa scatolina non c'è il rischio che andiamo a prenderle per utilizzarle e abbiamo la sorpresa Allora come funzionano? Vi faccio vedere la cosa figa All'interno hanno un asciugamanetto, non so se li avete mai visti, quelli super disidratati e compattati Quindi all'interno c'è un tovagliolino, un fazzolettino di stoffa anche abbastanza resistente Che nel momento in cui andiamo a premere, vi faccio vedere, la cialda, quindi a rompere la parte superiore Guardate, aspettate che è un po' duretto Guardate, vedete come sale? Sta assorbendo tutto il liquido adesso Il panno sta assorbendo tutto il liquido, sembrerebbe che è fatto, sì Guardate, il liquido non c'è più praticamente Andiamo a, ecco qua, a levare la cartina quella sopra A prendere il fazzolettino Questo qui, vedete, adesso è completamente vuoto Lo andiamo ad aprire Allora, aspettate, eccolo qui Eccolo qui, vedete Questo qui è la dimensione Comodo perché, vedete, essendo un pannetto ci possiamo pulire bene le mani Anche se dobbiamo fare qualcosa sulla macchina Andiamo a mettere la benzina e ci puzzano le mani di benzina se andiamo al self service Con questo qui c'è la possibilità di pulirsi bene le mani, disinfettarle Poi, essendo un pannettino abbastanza resistente Che non è proprio una trama bella resistente Riusciamo a pulirci bene Anche se abbiamo una macchina e ci siamo sporcati per cambiare una gomma Facciamo così Eccolo qua Vi metto il link in descrizione per comprarlo, se volete, su Amazon E se li state utilizzando, fatemi sapere voi come vi trovate E' un prodottino carino, lo trovo molto simpatico, utile e comodo da portare appresso Vi lascio il link in descrizione se volete comprare Se lo comprate, fatemi sapere cosa ne pensate